Vietato partorire in 28 ospedali della Sicilia, tra cui quello di Licata in provincia di Agrigento, è questo per effetto del decreto dell'assessore regionale Massimo Russo, che entro il mese di ottobre farà scendere da 70 a 42 il numero dei punti nascita in Sicilia. Entro il mese di giugno i direttori generali delle aziende sanitarie avranno tempo per proporre eventuali deroghe alla chiusura dei reparti, con meno di 500 nascite all'anno destinati alla chiusura che gravitano in zone montane o disagiate. La regione ha pubblicato venerdì in gazzetta ufficiale il decreto sui punti nascita, stoppato a settembre sull'onda della protesta dei sindaci, dei comuni, delle Madonie e delle isole minori e del braccio di ferro tra Commissione Sanità Lars e Assessorato alla Salute. La nuova versione cancella le 5 eccezioni inizialmente previste, tra cui la clinica Ignazio Attardi di Santo Stefano di Quisquina e introduce multe per le strutture che sforano il limite del 20% di parti cesarei. Il piano taglia 27 reparti di ginecologia e ostetricia e mantiene quelli indicati nella tabella. Tra i penalizzati, come detto, l'ospedale di Licata, secondo comune per popolazione della provincia, un provvedimento contestato dalla popolazione pronta a scendere in campo e a favore del mantenimento del reparto ginecologia della clinica Attardi, scende in campo oggi il deputato regionale e sindaco di Bivona, Giuseppe Panepinto, per il quale la struttura sanitaria, come testimonia il numero elevato di nuovi parti effettuati, è ormai diventato un punto di riferimento importante, certo e qualificato per più di 14 comuni del comprensorio della montagna della provincia di Agrigento e Palermo. Per tale ragione, continua il deputato del PD, Dì, sono convinto che tale struttura, per ciò che concerne il reparto ostetricia, deve poter usufruire della deroga ministeriale. Sono fiducioso, ma allo stesso tempo sarò estremamente vigile, conclude Panepinto, su buon fine della vicenda, perché tale deroga è indiscutibilmente un fatto di estrema necessità per una popolazione che, come è noto, sia per la collocazione geografica che, per assenza di una rete di collegamenti viari, sconta il gap di un vero e proprio isolamento con le città dotate di presidi ospedalieri.